eccoci qua l'ufficiale altri due colpi della roma sia diavara che spinazzola diavara dal napoli e spinazzola dalla juve in cambio con pellegrini che vada juventus diavara che sto guardando con pes l'overo l'ottanta mediano mi sembra ottimo giocatore certo non è proprio il top del top però diciamo in questo momento va bene ma andiamo a leggere le sue caratteristiche tecniche classico mediano trova la sua posizione ideale davanti alla difesa in centrocampo risposta 4 2 3 1 in 4 3 molto bene lo spezzare le trame del gioco avversare nel far ripartire le azioni si è da subito quando ti iscritto per la grande quanto tranquillità con cui approccia le partite per la grande velocità i pensi non interpretare azioni dichiara di spiazza di aria turi bene proprio i punti di riferimento per molti mediani africani nati negli anni in avanti tant'è che sceglie la maglia numero 42 proprio in suonore per caratteristica tecnica può anche essere avvicinata a grandi interpreti nel vero come cardio ma che lele ed i dr zocco rà tra l'altro diavara davvero molto giovane infatti leggendo su pesce ha solo 21 anni pensavo ce n'abbiamo molto di più visto che lo vedevo da parecchio tempo in campo infatti ha debuttato con il san marino 15 presenta zero con nel 2014 10 2015 poi nel 2015 2016 al bologna con 34 presenze e zero gol poi nel 2016 2017 si trasferisce al napoli per complessive tre stagioni e 74 presenze e due gol e poi quest'anno giocherà con noi sperando di infortire il parco gol insomma però mi sembra un ottimo giocatore quindi come detto prima un mediano 80 di overall secondo pass stelle di gioco collante quindi diciamo è un boscaiolo non recupera palloni insomma a dei russi e vedremo speriamo bene speriamo bene e niente passiamo al prossimo acquisto che spinazzola vediamo overall 78 vc 78 cls quindi molto d'utile da quanto vedo stile di gioco terzino offensivo poi le fa sia il terzino sinistra che l'area sinistra quindi poi le fa tutta la fascia sinistra anche destra da quel che vedo su pesce quindi come dicevo prima molto d'utile overall 78 ma andiamo a leggere ma come fatto anche con java le sue caratteristiche tecniche il terzino sinistra accorrenza impiegabile anche sulla fascia a destra dalle spiccate dati fisiche atletiche resistente allo sforzo si infatti è vero anche su pesce visto che le sue caratteristiche verdi sono proprio la resistenza quindi davvero pesce davvero molto realistico che eccelle nel cambio di passo tra le sue migliori qualità c'è il dribbling in particolare finte e sezzate toppi passi che gli consentono di superare con facilità avversare altro corso di pesce la velocità infatti sì tante treme pare ho visto prima tale abilità lo rende molto efficace non uno contro uno nelle giocate in rapidità calciatore della grande velocità palla al piede non disdegna l'entrata e dentro al campo per scaricare poi in diagonale verso la punta l'esterno opposto il suo stile di gioco è caratterizzato il tocco di prima rapidità affondi lungo le corsi laterali e attacchi in profondità inversamente tra le sue pecche si mostra carente nell'anticipo aereo nelle accorciate sull'avversario questo giocato è stato paragonato da luca zambrotta quale lo stesso spinazzola dichiarato l'ispirazio si c'è posta via come paragoni nelle debute proporzioni andiamo a leggere tutta la sua carriera debutta all'empoli con otto presenze un gol poi si trasferisce al lanciano con tre presenze solamente poi nel 2013 2014 siena con 26 presenze un gol in serie b in serie a due presenze no 5 presenze un gol nel febbraio 2015 vicenza 10 presenze zero gol perugia 34 presenze zero gol poi atalanta 2016 17 17 18 complessive 62 presenze e un gol poi alla juve per giocante la juve vuol dire che tanto scazzo non sei perché sono la juve non non te compra ma a parte qualche bidone di qualche anno fa ben tenera nel cavale però 12 presenze zero gol diciamolo anche lui non è che se in casi tanto però come dicevo prima sono pregurative sono le velocità e quindi messi in un altro buon acquisto certo non un eccellentissimo è che te fa fa te fa fa altri preti però l'importante secondo me è e esseri attivi sul mercato comprare e ancora ci sono altre chiacchiere ma non voglio dire niente dopo le cose dette su mano lasso sulla juve e quell'altro ma che stiamo zitti onestamente quindi aspettiamo però ci sono ottime possibilità a quanto ho letto però altro e niente quindi presenze totali 155 presenze e tre gol in tutto quanto la sua carriera in più ce ne sono le presenze nazionali che sono sette e zero gol sperando che segni perché segna poco magari diventa come gervinio chissà e niente sono abbastanza contento dai meglio le niente onestamente dopo le tante eccessioni se comincia a muovere anche il mercato della roma benissimo quindi in pratica un'opera la 78 abbiamo preso bene così diremo e ha messo aspettiamo altri colpi magari ancora più forti sicuramente arriveranno soprattutto dopo la cessione de mano las vediamo lì ancora c'è da lavorare secondo me andremo a finire verso 10 15 luglio questi tempi però per quanto riguarda dico la difesa e vediamo un po e adesso aspettiamo qualche altro facilità anche del dubbio vediamo un po e niente so con sa abbastanza contento via la fine la gente è qui in e sta cocchi mia purtroppo tocca accontentasse po legge un casino delle critiche su mano las ma onestamente mettetevi nei panni dei calciatori anche io qualche anno fa critica o eccetera mercenari pezzi di merda eccetera eccetera per lo po bisogna mettersi nei panni calciatori perché questo per loro è un lavoro quindi se si va a migliorare la sua loro condizione lavorativa è ovvio che alla fine uno sceglie una squadra un po più forte che te pagare più mercenari da me onestamente non li chiamerò mai soprattutto dopo il messaggio che ha scritto piani c'è sotto l'istagramma de spinazzola sotto il messaggio che ha scritto spinazzola c'è una grande società per me manco piani ce n'è stato ma in mercenario per me ha dato sempre tutto con la maglia che ha dato sempre tutto per me merita rispetto a prescindere la maglia che indossa così anche come ragia magari due ogni tanto facesse qualche stronzata fuori dal campo ma purtroppo nella vita sua e non credo cambierà mai e niente questo è tutto sperando nuove notizie ufficiali perché io fa solo video sulle cose ufficiali basta perché sono tanto qui di chi che il ma in quello e niente quale altra e niente nessuno quindi a me che dimmo le cose a fatti avvenuti almeno non ci sbagliamo e niente sono abbastanza contento questi acquisti e adesso damocela fa per altri acquisti ancora più forti è sempre 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 forza roma dagli